Simone Venturini è nato a Fano nel 1966, è un biblista che lavora in Vaticano, docente alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma e autore di articoli e saggi sulla Bibbia. Per la casa editrice Newton Copton ha pubblicato numerosi libri, tra cui il più famoso è il libro Segreto di Gesù. Venturini oggi propone, per la racca editrice, la Bibbia riscritta e commentata, i segreti della creazione dell'Eden. L'obiettivo è quello di rispondere ad alcune domande che l'uomo si pone da secoli. Si può fare a meno di Dio? Da dove viene il male? L'uomo cambia in continuazione. Noi sappiamo che ogni sette anni l'uomo cambia completamente le sue cellule. Ma le domande che l'uomo si pone sono sempre le stesse da duemila anni. Da dove viene il male? Perché l'uomo soffre? E perché l'uomo soprattutto ha bisogno di Dio? Queste sono un po' le domande a cui cerco di rispondere con questo piccolo libretto, che si pone come una nuova traduzione della Bibbia. Più che altro è, come dice il titolo, una vera e propria riscrittura. Cioè io vado a riscrivere la Bibbia partendo dal testo originale, aggiungendo tutte quelle parole che noi non vediamo, ma che sono iscritte dentro le parole ebraiche. Lei inizia dai primi tre capitoli. I primi tre capitoli contengono le domande più importanti che l'uomo si pone. Per esempio quella del male. Il male viene da Dio? No, il male non viene da Dio. Il male viene dall'uomo e da colui che collabora con l'uomo per farlo precipitare nel caos, che è sotto mentite spoglie il serpente. Ci sono delle sorprese in questa traduzione? Sì, tante. Soprattutto quelle che riguardano l'immagine dell'uomo e della donna. perché questi primi tre capitoli danno un'immagine molto complessa e moderna di ciò che è l'uomo e la donna, di ciò che è il maschio e la femmina e di ciò che dovrebbe essere l'identità maschile e femminile e come queste due identità si coniugano tra loro.